signore e signori ladies and gentlemen ho il piacere di presentarvi alberto sordi tino cala un po valtecchiari tino cala un po pippo franco tino un po meno di meno luca mastrolitti e veri tricia buongiorno caro che presenta gentilissimo varietà 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 stiamo a varietà e perché perché siamo a varietà quello che si chiama varietà il 18 dicembre quindi a breve mi dicono di girarmi così perfetto sì ok è il 18 dicembre quindi sabato adesso alle 21 e dove lo fa al piccolo teatro di bari che piccolo di nome per l'ingresso e alle 20 l'invito alle 20 e 30 e si però si parte alle 20 alle spettacole iniziale 21 perché loro prevedono che c'è una coda attorno al teatro per cui devono controllare il green pass qui dalle 20 e 30 controllo miglior passare 21 iniziano e di che parliamo ma di che parliamo fai via è una storia di una compagnia teatrale che non lavora da due anni perché luca il capo comico vuole mettere in scena sempre spettacoli un po pesanti allora io gli consiglio di fare uno spettacolo più leggero più divertente che sarebbe varietà quindi da qui inizia una serie di sketch divertenti allora aspetta facciamo quello la broccolino vabbè allora sto ghiac signori e signori dalla varietà per il varietà il 18 dicembre dalle 20 e 30 ma inizia siamo alle 21 luca mastrolitti meri triggiano vi aspettano proprio al teatro a corretti numerosi ma numerosi come come si dice merda merda ma proprio assai ma vagonata ovviamente tu sei invitato ma allora va bene te l'avevo detto facciamo che arrangiamo di nuovo però non portare tanta gente che poi è piccolo teatro riempiamo tutto poi non già io valgo per due infatti ma solo il 18 adesso sono le 18 poi magari siamo sotto al cielo non lo sappiamo non lo sappiamo vabbè io vi lascio continuare a provare noi ce ne andiamo perfetto piccolo teatro venerdì 18 sabato 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 ti no vabbè 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 ciao ciao allora noi dobbiamo funzionare a provare sì dov'è